Proseguono i cicli di conferenze organizzate dal Rotary Club della Spezia sotto la presidenza dell'Abiraglio Andrea Toscano. Mercoledì alle 18 nella sala multimediale di Tele Liguria sarà la volta del professor Giovanni Biggio, neuropsichiatra di fama internazionale. Un'altra occasione che il Rotary ha sentito l'opportunità di mettere a disposizione della cittadinanza è la presenza del professor Giovanni Biggio, una celebrità, lasciatemi passare il termine, nello studio del cervello specialmente dei giovani. Perché i giovani? Perché il Rotary è sensibile ai giovani, perché il Rotary sta sviluppando anche altre imprese relative ai giovani in Tanzania, per esempio. Perché? Perché i giovani hanno il cervello ancora in crescita, il cervello che assorbe tutta la realtà che li circonda e della realtà che li circonda assorbe anche gli aspetti forse meno positivi. Questo genera stress nel cervello, se non vogliamo anche citare la pandemia, il Covid è stato sofferto dai giovani in maniera veramente particolare. Questi sono gli argomenti che il professore Giovanni Biggio ci illustrerà e ci renderà coscienti di quello che è il cervello di giovani, di come noi tutti, noi tutti singolarmente, possiamo contribuire a fare in modo che il giovane possa crescere nell'ambiente più consono alla sua salute mentale. Quindi appuntamento a mercoledì alle 18? Mercoledì alle 18 nella sede di Tele Liguria Sud, che ci supporta in maniera eccellente per queste iniziative che il Rotary sta portando avanti.